Il volto del pincio per come lo conosciamo ora il 22 dicembre salvo imprevisti e meteo permettendo non sarà più lo stesso. I lavori che da alcune settimane per l'importo stanziato di 950.000 euro dovrebbero terminare in tale data e permettere di valorizzare uno dei luoghi più significativi della città al massimo della sua potenzialità così come siamo abituati a vedere nelle maggiori capitale europee dovrebbero terminare. Il pincio rappresenta l'essenza stessa della città di Fano dove romanità e medioevo si danno la mano dove intere generazioni di fanesi hanno fatto i ragazzini con i pantaloni corti e dove Fano si identifica maggiormente facendo diventare la porta augustea il simbolo della città. Ma per arrivare a questo rinnovamento il percorso è ancora articolato e questa mattina sono stati illustrati dall'assessore lavori pubblici e dagli architetti De Vita e Lisotta i cambiamenti anche in termini di viabilità necessari per la continuazione dei lavori. Da domani, massimo dopo domani dipende un po' dal tempo meteorologico, inizieranno a recintare un'area cantiere un po' più vasta e inizieranno a lavorare su via Arco d'Augusto. Pertanto ci saranno delle modifiche necessarie e indispensabili alla viabilità. La prima è che le vie che scendono a via Arco d'Augusto che sono via Martino, D'Afano, via Ghisberti, via Saffi saranno a doppio senso e non si potrà più parcheggiare per poter fare delle manovre per i residenti. Piazza Cleofilo cambierà senso di marcia per poter accedere in quanto da questa parte, ovvero da via delle rimembranze, non si potrà più accedere a queste tre vie. L'altra cosa che è importante, considerando che qui abbiamo visto che passano centinaia di biciclette al giorno, dovremmo chiudere quello slargo che c'è tra la Porta Maggiore e il bastione appunto del Nuti e quindi tutti i pedoni dovranno attraversare verso via Roma lato Ancona. Poi i lavori proseguiranno lato appunto Cintamuraria con la sistemazione in Porfido, anzi in Selci, di tutto questa via delle rimembranze fino alla fine delle mura malatestiane. Si inciderà profondamente anche sul fronte della sicurezza, dato che da tempo questo luogo è ostaggio di cattive frequentazioni e teatro di fatti cruenti. Pertanto verranno installate cinque telecamere attive H24 ad alta risoluzione collegate con le forze dell'ordine, eliminando definitivamente così gli angoli ciechi. Inoltre verrà realizzata un'adeguata illuminazione artistica e le siepi verranno potate all'altezza di 80 centimetri per rendere visibile tutto ciò che avviene in pieno giorno nella terrazza della bastione ed occultare una ringhiera anche di protezione che verrà installata e realizzata nello stesso stile di quella presente nel parcheggio dello sferisterio.